ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono cio red e oggi parliamo del collegio 4 in particolar modo della professoressa pentolicchio ragazzi vi ricordo che fate ancora in tempo a votare il vostro preferito come andate al link che vi metto nel commento in primo piano oppure in descrizione massimo due volti se non il vostro voto verrà annullato se non trovate il link è perché ormai è finita la votazione ma andiamo al video tempo di vendette e rivincite per la prof maria rosa pentolicchio ormai icona del collegio 4 la docente di matematica infatti prepara i ragazzi in vista degli esami finali e in questa puntata si è improvvisata collegiale ai protagonisti invece è il compito di vestire i panni di insegnante per un riassunto generale che dovrebbe essere utile per tutti coloro che hanno bisogno di fissare nella mente tutti i consenti più importanti inutile dire che per la pentolicchio invece vorrà dire avere l'opportunità di ripagare la classe con la sua stessa moneta la prima vittima crispino la pentolicchio seduta fra i ragazzi inizierà a disturbare il presunto professore lanciandosi nel verso di qualche animale ovvero cane e gatto e anche qualche mugito scaturendo le risate degli alunni un po' di fastidio da parte di crispino seconda vittima invece busciantella questa volta la professoressa ha deciso di pagare l'alunna con la stessa moneta con cui lei l'ha ripagata ovvero ridendogli in faccia oltre che interromperla di continuazione alla fine tutto è ritornato alla normalità la pentolicchio ha ripreso la sua cattedra e voi che cosa ne pensate avete visto il video originale ditemi la vostra se vi siete divertiti a vedere la pentolicchio nella posizione degli alunni scrivete nei commenti per il momento concluso se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da ciao red ciao ciao ciao